Salve a tutti ragazzi e bentornati dai miei show show e lo so che siete stati attirati dalla copertina ma oggi proverò di nuovo a stupirvi a soddisfarvi a farvi godere Ragazzi nel primo video vi ho dimostrato che in realtà queste prova hanno due tipi di copertina quella bella tutta colorata tutta Cotereccia e poi ragazzi quella coi piedi cose un po schifose però qual è il problema è che questi video sono tutti uguali Ma questo video l'ha già fatto tizia ma questo quella copertina l'ha già usata quell'altro Ragazzi come vi ho già detto questi tipi di video sono tutti uguali hanno tutte le stesse copertine tutti gli stessi titoli Ovviamente tradotti nelle varie lingue in inglese in italiano copia e colla copia e colla essere è stato uno dei primi a Portarli quindi insomma tutti hanno fatto tutto ma questo video è diverso perché la maggior parte di questi video hanno queste copertine clickbait tu ci entri e poi nel video non c'è ma non nel mio video Infatti ragazzi vi avverto subito che adesso andremo a vedere tutte quelle cose belle che ci faranno rilassare ci faranno godere ma questo video ragazzi a tre momenti In cui andremo a vedere quelle cose che avete visto in copertina perché qui non si fa clickbait e questi tre momenti verranno anticipati dal suono di questo allarme Quando sentite questo allarme ragazzi preparatevi perché stiamo per vedere quelle cose quindi se siete coraggiosi Potrete guardarli insieme a me altrimenti ragazzi chiudete gli occhi e resistete Ovviamente sono messi in punti random del video nell'ultimo video ho preso 4.000 non mi piace Sono sicuro che a quei 4.000 non piaceva la parte dei piedi però agli altri 60.000 ma so che a tanti di voi a tante persone quelle cose piacciono Rilassano fanno godere Fatemi sapere sotto nei commenti se a voi quelle cose piacciono o no che cosa vi piace insomma quali sono i momenti che vi piacciono di più Detto questo ragazzi vi ricordo che ho appena mangiato e mi sono anche preso il caffè 30.000 mi piace per un nuovo video di questo tipo ragazzi Vi ho messo questa inquadratura così quando arriveranno quelle parti schifose vi potete anche un po' Concentrare su di me però adesso iniziamo soft vedete c'è questo qui che sta facendo penso della pasta fritta Io oddio ragazzi pagherei a parte no siamo appena usciti dalle feste non è che c'ho tutta sta fame Però guardate che figate che c'è queste cose allora a me non soddisfano ve l'ho già dimostrato nella scorsa puntata però Comunque sono cose che ti fanno dire wow no ti dicono mazza che figata cioè guardate come vengono fatte le cose Sarebbe bello fare tipo no aspetta Uuuu zio Peccato che non c'è il suono ragazzi Nella mia mente questa è una caramella è tipo quelle caramelle no Ecco mi fanno dire wow Delle palline così Ah figo Ecco ragazzi ste cose ti fanno proprio dire Mmm golose Golose è bella palla perfetta Uuuu si io no mamma mia che cazzo Piardina c'ha quella dentro allora questa ragazzi scusate non è questo il momento L'allarme però che cacchio gli ha tolto dall'orecchio No non lo voglio sapere ragazzi nel Ma deve san si puliva le orecchie da Da 50 anni ma che è oh Solo ragazzi appena mangiato tutte ste cose non mi toccano più di tanto Però è figo vedere come fanno le cose Sarebbe bello ragazzi un giorno andare in una fabbrica a scoprire come come fa come sono Oddio Ecco per esempio ragazzi sta cosa a tanti di voi piace Mi fate sapere adesso se questa cosa vi piace o no Cioè il coso che si spella Tipo questa cosa della mano Cioè se vi fa vi rilassa vi soddisfa o no Che schifo amici Figo Cioè sta roba è figa raga Sembra tipo che gli vomita dentro Oddio No Ecco come fanno i guanti quelli lì Doppio colore No vabbè non c'è credo Questa c'è un'ascia clamorosa per tagliare ste Ste cipollette Ah ragazzi io ho lavorato in un ristorante Quindi c'ho una pavolura fottuta Delle affettatrici Tipo quelle che affettano I salumi ste robe perché Basta che Bella sta roba Basta che ti sbagli un mignolo E non c'hai più il mignolo sostanzialmente Oddio No vabbè Questa è magia Ah vabbè era al contrario Era al contrario Era al contrario Eh no perché sennò era davvero magia Cioè ragazzi queste sono cose veramente Fichissime da vedere Questo è un video dove Gli sfrutto No way Avete visto Come riempiono i materassi Figata Mo se aggiusta sta roba Me ne vado Che sta roba Si vabbè Oh cacchio Oh cacchio E' difficile pure per me ragazzi Allora Vi do quello che avete visto in copertina Allora io ho appena mangiato Oh mio dio raga Non ce la posso far Ce l'ho già a sudare raga Oh bro Che miseria C'era la musica Scusate Madò Madò Madonna Mia Ragazzi Madò 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 Mamma mia Ma che cazzo C'ha i piedi La gente Madre De Dio Cosa Sto Guardando Ma voi Pensate Che c'è Sta gente Che ha studiato Per queste cose Massimo rispetto Massimo rispetto Basta Basta Andiamo avanti Andiamo avanti Vabbè Ce l'abbiamo fatta Primo passo E' andato Questo sesso Si che mi rilassa Dio ragazzi Mi dovete far sapere Se vi piace Questa formula nuova Ecco Queste cose Sono bellissime Ragazzi Pure se prima Non mi soddisfavano Adesso Mi soddisfano No Vabbè Ci credo No Ecco Queste sono cose Fiche Non so Che cos'è Quella roba Probabilmente Non me la mangerei No E' panna cotta Ci ha buttato In mezzo Lo schifo No Che stregoneria E' quella No way No vabbè Ragazzi Questa è stregoneria Guarda Magie Sta pulendo No Forse c'era la condensa Ecco Wow Oddio ragazzi Le cose sporche Queste Fa godere Aspetta Aspetta Uuu Zio Pensa quanto grasso C'era su quella cosa No Ragazzi Ste cose mi riconciliano Con il mondo Cioè Dopo quello Uuu Dopo Uuu Beh Mi dovete dire qua ragazzi Se non vi sta A parte non so che cosa E' quella roba Cioè se è mozzarella A me stava facendo godere E non poco Ah tipo il cactus No Che c'è dentro Mi pare tipo lo shampoo La gelatina C'ho la gelatina Che era così Cos'è What the fuck Io dico no Pensa a quello Che si è messo l'add Oh ma che c'è Stato entra un cactus Che poi non è un cactus È una pianta grassa Tipo Che Schifo amici Gente Non si sa mettere Oh questo pulisce Non si sa mettere le mani In tasca la gente No vabbè Allora ragazzi Se uno c'ha ste Idropulitrici Cose fighe così No E' bello pulire Perché dici Ammazza che figata Solo questa cosa Ragazzi Se te becca Te fa male C'è una macchina Zozza vercia Però eh Amico mio Dai una pulita Non si aspetta Che diventa lo schifo Wow figo Una co Eh sì Una cozza C'ha un'ostrica È un'ostrica no Quelle che c'hanno La perla dentro Mamma mia Che schifezza C'ha la perla Figo ragazzi Solo che Un po' Ricorda che cosa Infatti ragazzi Una cosa che Quando l'ho scoperta Sono diventato pazzo Croisler Dei pokemon A che cosa Assomiglia Lo voglio anch'io Lo voglio anch'io Anche acquario Lo baggio Nooo Per favore Mi era appena ripreso Guarda che burro ragazzi Dai mi era appena ripreso A noi stiamo passando Da questo Ragazzi Dovete essere coraggio A parte non Dovete essere coraggiosi Perché a voi vi piacciono Ste cose A voi vi piacciono Ste Uh cazzuola Oddio Guarda 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 Quanta palle C'è alzata questa A questa a voi vi piace Per esempio Ad ambra Ste cose Gli piacciono E' un bene Perché qua Io no Io non la posso guardare Sta roba raga Mamma mia Fa meno schifo Di quello di prima Chiaramente C'è pure il suono Fammi sentire Oh mio dio A parte questo Ragazzi Mi verrebbe da dargli Una pizza Così Pum Dietro la schiena Stupido Mettite la crema Oh mio dio Quanta piena allevata Ma che è Un serpente che fa la muta Oh zio Vabbè E' almeno peggio E' almeno peggio Come succhia Lo zozzo Il lercio Il lezzo Lurido Allora se ragazzi Se uno c'ha desti strumenti E' figo pure pulire No Quando mamma mi dice Oh sistema Vabbè Non è che c'ha a casa C'ha sto schifo Però uno dice Oh sistema Guarda Ma 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 Non lo lavavi Da una vita E No vabbè Bellissimo E mi si è spentata La telecamera Ragazzi Si aspetterà un poco Eccomi tornato Ragazzi No Ero appena tornato Vi prego Vabbè Ragazzi è l'ultimo Ce la possiamo fare Occhietti a me Occhietti a me Io guardo voi Ma come Come fai A fa crescere Delle cose così Che lui Se le tocca Oh raga Io non ce la faccio Io non ce la faccio Ragazzi Non ce la posso fare Già i piedi Mi fanno schifo Ma che sta a far formaggio Ragazzi sta a far formaggio No 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 Ragazzi guardate Io guardo a voi Guardate voi Guardiamoci in faccia Spero che è stata No 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 Bah 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 Beh ragazzi Io spero Che voi siate Rimasti Soddisfatti Da tutto questo Mi raccomando Fatemi sapere Se queste cose A voi piacciono O no Lasciate tanti I bei mi piace Perché possiamo Tornare con una nuova prova Come detto L'hanno fatta Tantissime persone Ma questa non è Clickbait Quello che c'è Nella copertina Poi c'è Nel video Vi ricordo che domani Tornano le top Di fine anno Quella cosa Prima o poi La tirerò su Oh Salve a tutti A me Ciao 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 I polla ma la polla I passerò la passerà Ma tutti quanti amano Mike Shosha Tutti quanti amano Mike Shosha